un po la camera sembro nuda terrasse così c'è una cosa bruttissima sì allora ragazzi in chat mi raccomando non me la fate anzi la chiudo che così ma perché mi devo intossicarlo allora solo il calcio interessa non ti preoccupare allora allora no morgan tu l'hai vista la partita però non abbiamo ancora fatto parlare assi io volevo sentire il suo parere come la va come la va giuli sono di una felicità adesso piano piano mi riprendo c'è proprio stai se l'uomo dice stai godendo stai squirtando si può dire no tanto forse un po to match stasera scusa un po to match per dire suito verso dove vuole andare questa trasmissione però parliamo anche dell'intercappolista che fa la videocamera un giorno vi prenderò col cellulare la mia postazione aspetta scusate un attimo chat potete fare una clip di ciò che è appena successo alla videocamera di manfredi per favore fate subito grazie buona meno 40 allora rispetto un'altra e chi non capisce che c'è stata una mancanza di rispetto mi dispiace bisogna un attimo crescere perché siamo tutti i maggiore nei vaccinati e così non ci si comporta ciao buona serata a tutti ok prendiamo atto perché ragazzi ognuno è no ma gabri ognuno è giusto che abbia secondo me c'è la propria sensibilità però siccome tutti vanno allo stadio no tutti vanno se io dico è stato solo un momento di libero la ciao giorni in cui l'inter fatto schifo è vero ma sai come i campioni possono avere dei momenti di debolezza e doveri quel momento in quel momento ero capire cosa escugitare per prendervi tutti per il culo avete capito perché non vi sento raggiare dove siete 3 a 0 pappine continuate a dire che era fuori in gioco non era fuori in gioco era fuori in gioco è diventato bim bum bam questo programma è diventato 3 a 0 cose no Enzo incredibile dove siete non ce la faccio più mi avete fatto topalla tanti andate a casa pensi di me via 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 il finale contro la Juve vinciamule a casa andatevele basta siamo tornati e poi cominciamo con l'alert che vado via non sto in pena di alert non sto in pena di scherzà non me cagate il cazzo e andrei te lo dico leva l'alert sino me ne vado vabbè ma guarda che un giorno ci riderai no perché a me sta qua a prendere gli insulti e voi guadagnate non me ne prendo il cazzo quindi me ne vado non mi rompete il cazzo ragazzi sto qua a parlare io invece gioco le palle no le mie piccolette palle che se gasperini avesse preso l'inter gasperini avesse preso l'inter avrebbe perso pure la supercoppa italiana perché è incapace è un totale incapace augusto per favore non intervenga no ma in zaga ha vinto due supercoppa italiana buona serata no no aspetta 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 dai ragazzi però anche voi adesso gli scrivo adesso gli scrivo però se si vedeva che emotivamente coinvolto dai di cinque minuti di uve merda mai di cinque minuti vai vai beh quello che vuole mai 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 ancora ancora che ti aiuta, vai ancora, madonna, ma il che c'ho io? io fa merda che mi ha capito non mi ha capito vai, vai, ancora, ancora, ancora basta, basta, ora ti ha tutto perché io penso Paolino l'abbia capito certo se Paolino l'ha capito fortune altrui, sicuramente non muore mai come scrive Gabra, però campana merda, cioè nel senso si camperebbe molto meglio gioendo delle cose proprie piuttosto che infatti io gioisco perché ha vinto il Genoa ma di cosa stai parlando? Sei sicuro? sei sicuro? Va, non lo so vai a dormire, dai, per fare stuscita si è appena svegliata sono cari cappallettoni, guarda ti vedo, per dire delle cazzate allora sei cari cappallettoni non posso festeggiare perché il Genoa ha vinto veramente io non vengo pagata per dire delle cazzate allora perché non posso festeggiare perché il Genoa ha vinto, non ho capito io conoscendo, io almeno conoscendo anche la tua presentazione sappiamo bene che non godi solo perché ha vinto il Genoa parla del Napoli ma che mi sembra che ti lascia un più spazio ma io posso parlare di tutta la Serie A di tutti i campionati per parlare di tutto non devo per forza parlare di Napoli oppure godere delle scotture altrui per godere vado delle vittorie vado delle gioie vado delle scotture c'è una cosa che a me non mi appartiene caro Stefano che io non parlo alle spalle e ci metto il punto qua no 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 questo non mi piace no no ma stamattina il video con cosa ho fatto io stamattina non te lo preoccupate che video? che video? ho fatto io stamattina il video a piamme per culo ho fatto io il video stamattina si 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 buttala in cacciara buttala in cacciara no no io non butto niente ci sta nelle tracce basta che andate sul canale grazie a tutti